Ciao a tutti biscottini e biscottine, eccoci qui con una nuova video ricetta, cominciamo con quelle natalizie. Questa è veramente semplice che è più un'idea che una ricetta, si tratta di questi alberelli di biscotti. Sono carinissimi e anche molto divertenti da fare, soprattutto con i bambini. Andiamo a vedere subito gli ingredienti e come si preparano questi meravigliosi alberelli per Natale. Vi serve della pasta frolla che non lieviti molto. In questo caso io ho utilizzato la ricetta che trovate qui in alto ed è una frolla senza burro, al miele abbastanza light rispetto alle altre frolle e trovate la ricetta lì, io me la sono già preparata. L'unica differenza è che l'ho fatta con la farina bianca, invece nel video la vedete con la farina integrale e ho dimettrato le dosi. Poi vi servono degli stampini a stella, di varie misure però, per poter realizzare l'alberello. E del cioccolato a latte o fondente, come preferite, che sto facendo sciogliere a bagnomaria. Su un foglio di carta forno metto il mio impasto, magari spolverando con un pochino di farina, mentre si attacco. Poi un pochino anche sopra, metto un foglio di carta forno anche sopra, e vado a stendere il mio impasto abbastanza sottilmente. E adesso, partendo dalla stella più grande, andiamo a realizzare appunto le stelle, dalla più grande alla più piccola a nostra disposizione. Adesso prendiamo le nostre stelle e le andiamo a mettere sulla teglia per biscotti coperta da carta forno. Ovviamente vado a ritagliare altri biscotti. Adesso, come vedete, ho realizzato anche una specie di punta, quella che poi sarà la punta dell'albero. Ecco qui le nostre stelline. Adesso andiamo ad infornare in forno preriscaldato per circa 10 minuti a 200 gradi. Ecco qui i nostri biscotti. Adesso divertiamoci. Adesso non ci resta che montare il nostro alberello dalla stella più grande. Mettiamo un pochino di cioccolato sciolto al centro, in modo che faccia la collante senza fare danni. Questo lo lecco io e facciamo in questo modo. Ecco qui. Mi sono accorto che non era a fuoco, ma dopo vi faccio vedere anche l'altro, non vi preoccupate. E per ultimo mettiamo la punta ed ecco qui il nostro alberello. Adesso andiamo a fare l'altro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Come avete visto è più una idea che una ricetta, ma io la trovo veramente carinissima, in modo anche da fare decorazione e scena la sera della vigilia di Natale. Secondo me sono davvero molto molto carini questi alberelli e anche molto buoni. e nulla, lasciate un like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima videoricetta o comunque al prossimo video. Baccio! Ciao ciao! Ciao! Ciao ciao!